Buonasera Matteo, rivale ostica, difficile da affrontare, l'Inter ha fatto la sua partita e la sua prestazione per larghi tratti. Per quanto fatto in campo meritava un risultato diverso? Sicuramente dopo essere passati in vantaggio, sicuramente potevamo gestire meglio la partita. Abbiamo concesso un gol evitabile, però poi dopo siamo andati un po' in difficoltà e abbiamo concesso altri due gol. Quando concedi nel secondo tempo due gol al Milan è difficile da riprendere, nonostante poi c'è stato lo spirito per cercare di riprenderla. Siamo all'inizio delle stagioni, cosa è mancato secondo te? Perché abbiamo detto che comunque la prestazione c'è stata, no? Sì, sicuramente dobbiamo riacquisire con lo spirito di non voler prendere gol a tutti i costi e sicuramente dobbiamo avere più attenzione perché poi sappiamo che anche i piccoli dettagli possono fare la differenza, specialmente nelle grandi partite. E quindi penso a questo. Adesso prosegue questo tour de force, mercoledì già partita contro il Bayern, quindi poco tempo per riposare, ma sicuramente sarà una gara preparata anche molto bene. Sì, avremo pochi giorni per preparare la partita, però inizia la Champions, vogliamo comunque partire con il piede giusto. Affronteremo una squadra fortissima, ma in casa nostra, col nostro pubblico sicuramente potremo fare una buona prestazione ed è quello che cercheremo di fare. Grazie a tutti.